No alla città della salute sia all'ospedale per tutti, così la lista Potere al Popolo sintetizza il proprio programma politico presentato ieri sera al Circolo Ferraris di Omenia in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Un programma decisamente articolato ma che si snoda attraverso alcuni temi fondamentali, la salute è un diritto di tutti come lo sono l'ambiente e il lavoro. Contestualmente sono stati presentati anche quattro candidati che saranno in corsa per la Camera dei Deputati e il Senato. Quattro persone che sono pronte a rappresentare il territorio correndo nel Collegio Piemonte 2. Si tratta di Viviana Zanotti, omenese di 36 anni, sposata e madre di tre bimbi, nel cui curriculum compaiono impegni accanto al Circolo Collettivo degli Antifascisti e su temi quali l'integrazione e la difesa dei ceti deboli della popolazione. Candidata alla Camera nel Collegio Piemonte 2, uninominale. Altro candidato, anch'esso Cusiano, è Marco Neve, 38 anni, di San Maurizio Dopaglio, impiegato presso un'azienda chimica, consigliere comunale, assessore a Madonna del Sasso e conosciuto per il suo impegno sociale e difesa dei valori della Costituzione. Sarà candidato alla Camera nel Collegio Piemonte 2, plurinominale. Dall'Ossola arriva Brunello Fagognoli, originario di Cesena ma residente a Crodo, di 60 anni, insegnante di storia italiano che negli ultimi anni è stato impegnato accanto ai movimenti come la Notave in Valsusa, Controterna per il super elettrodotto e con il sindacato USB nell'ambito della scuola. Sarà candidato al Senato in Piemonte 2, nel plurinominale. Chiude il poker dei candidati del vice a Novara, di potere al popolo, Daniele Cherubin, nato a Gagliate, dove risiede a 57 anni, è tecnico di RFI, Rete Ferroviarie Italiane, responsabile di rifondazione comunista nel Novarese. Noto per il suo impegno nel comitato contro gli RF35, sarà candidato al Senato in Piemonte 2, all'uninominale.